Un giornalista inglese di 37 anni, famoso, riconosciuto, apprezzato, di nome David Locke, che in professione reporter, interpretato da Jack Nicholson, si trova in Africa per realizzare una serie di reportage nel quadro di un lavoro più ampio sull'Africa postcoloniale. Noi lo troviamo all'inizio del film nel mezzo di una crisi nera, di una crisi esistenziale e rimediabile, il film è di Antonioni, quindi questa situazione non è nuova. Una crisi che però dopo un po', per ragioni di circostanze, sembra potersi sbloccare, nel senso che a un certo punto della storia, dopo poco dall'inizio, si trova di fronte a una morte inaspettata, che è quella di un uomo che lui ha conosciuto in questo paese africano dove sta lavorando come giornalista, dove sta facendo questi reportage, e decide di assumere l'identità, tema narrativo ovviamente non nuovo, né nel cinema, nella letteratura, insomma, ma che ovviamente Antonioni tratta a modo suo, quindi molto originale, e quindi David Locke assume l'identità di questo uomo qui che trova morto sul letto perché ha avuto un infarto. Quello che ancora non sa, è questo giornalista, David Locke, è che quest'uomo in realtà è un piccante d'armi, quindi nel momento in cui lui acquisisce quest'identità si trova dentro una rete, un gioco ben più grande di lui, che poi di fatto alla fine lo porteranno alla morte perché verrà ammazzato. Questa è la trama, molto scarna, decisamente poco articolata, ma come sempre nel cinema di Antonioni le trame non sono molto importanti, sono poco più che dei pretesti per lavorare su dei temi che sono quelli di sempre. E in Antonioni non da ultimo il tema dell'identità, non l'avevamo visto un po' di tempo fa relativamente a un altro suo film, dei primi anni Sessanta, che era L'Eclisse. Ora, gli elementi da cui partire sono tantissimi, poi è la densità, il carattere fitto di un'opera, che rende un film, un libro particolarmente interessante, degno di note, imputabile a un maestro. Sono per esempio i nomi, partiamo dai nomi, David Locke. Locke è un nome importante, è un cognome che rimanda a un grande filosofo inglese, il padre dell'empirismo, John Locke. David rimanda a un altro filosofo, David Hume. Quindi, per semplificare grossolanamente, l'empirismo e lo scetticismo, i fatti e il distacco da questi fatti. Che questa non sia una semplice ipotesi o una coincidenza, è il regista stesso a confermarcelo, perché questo giornalista qui, che assumendo l'identità di questo trafficante d'armi fa finta di morire, cioè di averlo avuto lui, l'infarto, quando ne viene fatto il necrologio, o quando intervistano i suoi amici, ex colleghi, che ne parlano, per fornire un ricordo pubblico di questo giornalista, David Locke, lo definiscono, un suo collega in particolare, danno la cifra di David Locke come di colui che era in grado di coniugare lo spirito d'osservazione con il distacco. Cosa che, nel caso di questo giornalista, suo ex collega, viene imputata, viene ricondotta alle sue origini, cioè alla sua formazione, cioè un inglese nato a Londra e cresciuto negli Stati Uniti. Non è molto importante per noi, adentrarsi dentro questa cosa, la cosa importante è che è appunto la fusione di questi due approcci nei confronti della realtà, quindi lo spirito d'osservazione, l'attenzione per il fatto e il distacco. Quindi la fusione di due disposizioni nei confronti del reale. Ed è importante perché il numero due, il doppio, l'ambiguità, in questo film è strutturale, insomma è centrale, è una cosa che ci viene riproposta in continuazione, tant'è vero che il personaggio del trafficante d'armi, Caldoporco, rimanda, cioè gli assomiglia fisicamente a Jack Nicholson, ha, anche questo è un particolare relativo al nome da segnalare, si chiama anche lui David, David Robertson, e quindi c'è il tema della continuità dell'identità, cioè lui assume una nuova identità, però quell'altro si chiama David come lui. E quindi di che cosa lasciamo e di che cosa siamo in grado di trattenere quando cambiamo, sia che decidiamo di cambiare, a posto che sia possibile, questo è un altro dei temi del film, è possibile decidere in coscienza di cambiare, il film suggerisce che no, perché i vincoli, quello che siamo stati, il nostro passato, eccetera, eccetera, dopo lo vediamo, ci condiziona troppo. Ma non solo, l'altro, il trafficante d'armi, si chiama David Robertson. Robertson, anche questo rimanda alle radici, perché Robertson, letteralmente vuol dire figlio di Robert, no? E tra l'altro poi nel gioco dei rimandi, insomma, si potrebbe continuare, perché uno potrebbe dire una strizzata d'occhio anche alla vita, quindi al film che va al di là dell'arte, perché David Robertson, il personaggio del trafficante di cui David Locke, Jack Nicholson, assume l'identità, Robertson rimanda a Nicholson, anche lui, no? Cognome patronimico, qui siamo al di là del cinema, siamo alla vita, no? Perché Jack Nicholson, il nome nella vita di colui che interpreta David Locke. Quindi la rete è molto ampia, Antonioni, da grande maestro qual è, parla di noi, no? Parla del, attraverso la crisi di un personaggio, della crisi in realtà di un'intera civiltà, perché questo è uno dei grandi temi di fondo del film, non che non l'abbia mai fatto prima, l'aveva già fatto nell'eclisse, nella notte, parla sempre di personaggi borghesi, che era la classe che lui conosceva, la sua, Antonioni, in crisi, insomma, in un momento di rottura, di rifiuto nei confronti del mondo. Però in questo caso sembra essere ancora più radicale in rapporto al paradigma di civiltà, no? Perché Jack Nicholson, per tutta una serie di dettagli di sceneggiatura relativi al personaggio di Jack Nicholson, per fare un esempio, nel momento in cui lui decide di fuggire da tutto e di rifarsi una vita, a un certo punto si ritrova a Barcellona e alloggia all'hotel Oriente, no? L'Oriente è ciò che è altro dall'Occidente, così come l'Africa dell'inizio è l'altro, a sua volta, dell'Occidente. Quindi ci sono tutta una serie di piccoli dettagli che ci dicono che in realtà Antonioni non sta parlando di un individuo, di un certo ceto e basta, ma appunto dell'uomo contemporaneo e nella fattispecie dell'uomo europeo. Perché in realtà poi Jack Nicholson deambula per tutta Europa e si muove in continuazione per fuggire da quella vita di prima, in realtà finisce per fare la stessa vita di prima. Perché prima girava il mondo come giornalista, adesso fa il trafficante d'armi e volendo essere questo trafficante d'armi acquisire l'identità di Robertson, in realtà finisce di nuovo per girare. Qual è uno dei sensi, una delle possibili interpretazioni del film? Che in realtà tutto questo deambulare è solo uno spostarsi fisicamente, ma non corrisponde a una... cioè come una sorta di insetto impazzito dentro una bottiglia, no? Non corrisponde in realtà a un progresso, no? Cioè a un avanzamento reale. Perché in realtà Jack Nicholson non verrà a capo di questa sua crisi, lo troveremo in crisi fino alla fine, fino a quando... fino a quando verrà... di fatto verrà ammazzato. Qual è la cosa importante di Jack Nicholson? E questo lo vediamo subito all'inizio. La prima inquadratura che noi abbiamo di professional reporter è su... è di ambientazione africana, ed è in particolare su delle donne e dei bambini del luogo, quindi africani, no? Quindi siamo già, come si dice in questi casi, in media stress, cioè siamo già dentro, non è che ci viene fatto vedere questo giornalista che compra il biglietto aereo, va in aeroporto, poi a terra in Africa e comincia a fare i servizi, no? Inquadratura d'ambientazione africana, anche questo è indicativo, no? Poi vediamo perché la questione delle radici, dell'identità, della continuità tra le generazioni o della continuità in una vita, in uno stesso individuo, la continuità biografica rispetto a quello che noi siamo e alle nostre metamorfosi. Perché? Perché in questa prima inquadratura ci sono delle donne e dei bambini africani e non ci sono degli uomini, non subito perlomeno. Quindi le donne, il presente, l'adulto e il bambino, cioè la proiezione verso il futuro, no? Poi la macchina da presa si sposta verso sinistra con una semi panoramica e l'obiettivo si focalizza cioè ci mostra una jeep che sta arrivando dove c'è il nostro Jack Nicholson, il protagonista del film, che scende alla jeep e comincia a parlare con delle persone. Antonioni ce lo inquadra in campo medio, no? Che è una distanza molto particolare perché è, come dire, abbastanza lontano ma sufficientemente vicino da poter farci sentire quello che sta dicendo, no? Perché insomma non è un campo lungo in cui, o lunghissimo in cui il personaggio è un puntolino dentro l'inquadratura, però allo stesso tempo non è neanche un piano americano dal ginocchio in su, insomma una figura intera abbastanza distante. E cos'è che sta facendo Jack Nicholson? Sta cercando qualcuno. Quindi la cosa importante per il fatto che veniamo subito rimandati alla questione della comunicazione, perché lui chiede dov'è una certa persona e non viene capito, perché lui parla l'inglese, sua lingua madre, e il francese che mastica un po', ma gli africani in questione a cui si rivolge non lo parlano. Quindi c'è subito, tema Antonioni Oniano, per eccellenza, la questione comunicativa. Quindi qual è la cosa importante? Il fatto che la prima battuta di questo film sia una domanda, cioè lui sta cercando qualcuno o qualcosa, quindi non è importante la figura in sé che sta cercando, ma quello che sta sotto a questa domanda, a questa ricerca, cioè la ricerca stessa. Jack Nicholson è la ricerca di qualcosa, di qualcuno, diciamo, in situazione, ma di fatto di qualcosa che non sa ancora lui che cos'è. E questo per Antonioni è sufficiente per avere una storia, insomma ovviamente è una questione anche di poetica, è chiaro che gli appassionati di film d'azione non vanno a cercare il cinema di Antonioni, perché non succede quasi niente a livello esteriore, ma che lo accomuna a tanti personaggi di Antonioni, che sanno, come per esempio il personaggio della vittina e l'eclisse, cioè anche Jack Nicholson, sta cercando qualcosa, non vuole più fare la vita di prima e appunto il suo primo intervento che possiamo sentire nel film è appunto una domanda. In questo sfasamento, diciamo così, in questa mancata comprensione, perché di fatto le persone non lo capiscono, si passa a un livello successivo, cioè nelle prime scene vediamo che l'unico momento in cui Jack Nicholson riesce a intendersi quei locali è quando questi gli chiedono, con i gesti, una sigaretta e lui gliela dà prontamente. Quindi abbiamo già, fin dall'inizio, l'idea che nella contemporaneità, questo ce lo lascia intendere Antonioni, cioè o meglio è inequivocabile, l'unica forma di relazione possibile, o perlomeno quella che sei sicuro che riesce sempre, è una forma di scambio, una forma ufficiosa magari anche, però pur sempre inequivocabile, di contratto. In una fattispecie io ti ho una sigaretta, tu in cambio mi dai un'informazione oppure mi porti in un posto e così via. Questo è un tema che accompagna tutto il film e arriva fino alla fine, perché c'è un dialogo rievocato in flashback tra Jack Nicholson e David Locke, quando Jack Nicholson è ancora David Locke, e Roberson, in cui loro due hanno uno scambio e da cui emergono delle divergenze in rapporto al loro modo di vedere il mondo. E Roberson gli dice a Locke Nicholson, ma in realtà io penso che le nostre divergenze derivino alla fine della fiera dal fatto che tu lavori come giornalista con le parole e le immagini che sono cose vaghe, mentre io invece lavoro con le merci, perché appunto lui traffica armi e che non sono affatto cose vaghe, e in effetti questo è vero. Qual è la cosa che non ci viene detta e che scopriamo alla fine? Che in realtà queste stesse cose solide, cioè le merci, che ci mettono dentro in rapporti ipercodificati e chiari e non passibili di ambiguità o di sovradeterminazione o interpretazioni equivoche, sono quello che poi conducono Jack Nicholson alla morte, quindi anche alla nostra morte se leggiamo Nicholson come incarnazione di un certo spirito europeo, perché Jack Nicholson viene ammazzato alla fine del film non in quanto giornalista che ha filmato delle cose o detto delle cose che non doveva dire o filmare, ma in quanto traficante d'armi, anche se giocava a farlo, quindi c'è tutto questo paradosso, le parole, le immagini che non sono sufficienti, che sono sempre carenti, che sono delle cose vaghe, come dice questo traficante d'armi, allora va bene, ok, scegliamo la merce, cosa che ha fatto l'Occidente, però questa merce è indirettamente quello che si accompagna sempre alla merce, cioè il denaro, e porta Jack Nicholson e quindi anche noi, se intendiamo Nicholson come un paradigma, una figura, un avatar della civiltà occidentale, lo porta alla morte. Ecco, questo tema delle parole, delle immagini e della loro relazione problematica è un'altra delle questioni strutturali del film e forse in questo mai Antonioni si è spinto così al limite, perché nel film si insiste spessissimo su questo limite della visione e addirittura lo si fa proprio anche nei dialoghi a volte, ci sono in particolare due situazioni, due scene, una verso la fine, quando Jack Nicholson, anzi due verso la fine, sono tutte e due quando Jack Nicholson e la sua amante Mary Schneider si trovano in Spagna, perché a un certo punto lui per seguire le piste degli appuntamenti di questo trafficante si trova a dover incontrare qualcuno a Barcellona e poi da Barcellona escono ma rimangono pur sempre in Spagna, vanno su e giù con la macchina e a un certo punto si trovano in un piccolo paesino dove poi lui verrà ammazzato in un hotel e qui c'è anche un po' l'ironia di Antonioni, che è una cosa che non si trova spesso nei film di Antonioni, anche per questo professionale reporter è da segnalare, perché Jack Nicholson muore in un hotel che si chiama Hotel della Gloria, però poi viene ammazzato in un letto mentre sonnecchia, che non è una morte esattamente gloriosa, così come il trafficante, che pure faceva il trafficante, era una della sorte, muore per infarto, cioè un po' come se vogliamo in un parallelismo forse azzardato ma magari neanche troppo, un po' come l'Ulisse di Joyce ci restituiva un dato, cioè quello che l'epica ormai esteriore non esiste più, la dobbiamo trasferire nell'interiorità, quindi una giornata tipo così molto comune, per niente sul piano esteriore avventurosa, uguale per quanto riguarda la professione reporter, nel senso che poi quello che vediamo di questo ex reporter è appunto un peregrinare continuo senza costrutto che non ha niente di avventuroso, meglio si cerca lui l'avventura perché la sua vita in realtà è di una noia mortale, come spesso per tanti personaggi dei film di Antonioni, e appunto a un certo momento noi siamo in questo alberghetto, l'hotel della Gloria, e ci sono Jack Nicholson e Maria Schneider con lei vicino alla finestra e lui a letto, insomma gli stero sul letto, e lui le chiede cosa vedi alla finestra? E poi abbiamo un'inquadratura in semisoggettiva, cioè vediamo una parte di lei, vediamo il corpo di lei e la direzione del suo sguardo, e quello che lei vede, quindi noi vediamo lei e al contempo possiamo vedere quello che lei vede, e quindi come dire avere un'idea, fare rapporto eventualmente su quanto lei sta dicendo rispetto a ciò che vede. E quindi comincia ad elencare quello che vede dalla finestra di questo alberghetto spagnolo, e dice comincia ad elencare, comincia dalle figure umane, anche questo è interessante, come dire quanto il nostro sguardo è selettivo, non comincia dall'ambiente ma dalle persone, perlomeno la Schneider fa questo, e comincia a dire c'è un uomo che si gratta la spalla, e noi vediamo fuori dalla finestra un uomo che si gratta la spalla, oppure due persone che stanno discutendo della strada da prendere, e noi vediamo. Poi nel momento in cui lei, non vedendo più delle figure umane, passa ad altro e dice e poi c'è polvere, tanta polvere, nel momento in cui lei dice questo, passa una bicicletta che attraversa l'inquadratura e poi esce, e quindi noi siamo rimandati subito come spettatori all'idea che in realtà il rapporto tra parola e immagine non sia un'integrazione, ma sia a sua volta un rapporto problematico, perché nel momento in cui la Schneider ha registrato una figura umana che prima non c'era, era già passata ad altro, cioè al paesaggio, e quindi questa bicicletta in realtà lei non la registrerà mai, non ne renderà mai conto verbalmente, quindi c'è già una sfasatura, quindi non è la parola che completa l'immagine o viceversa, ma c'è una discrepanza di fondo. Quanto invece ai limiti della visione, qua dobbiamo citare almeno una scena e poi ovviamente il motivo per cui questo film è famoso, se non addirittura famigerato, cioè il piano sequenza finale, lunghissimo, interminabile, bellissimo. La scena è quando sempre in questo alberghetto Jack Nicholson racconta a lei una storiella, in realtà di una persona che lui conosceva, di un quarantenne, che dice, questo quarantenne dice Jack Nicholson era cieco, poi a 40 anni gli fanno un'operazione, acquisisce la vista e cade in depressione e dopo tre anni si suicida, perché? Perché quando era cieco si era immaginato un mondo diverso, cioè la sua immaginazione aveva figurato un mondo meno squallido, impressionato con gli occhi buoni stavolta dalla miseria del mondo, non regge questa visione e poi si ammazzano. Quindi la miseria e i limiti anche la sopravvalutazione che noi che vediamo conferiamo alla vista. Il trionfo di questa, anche autocritico se vogliamo, perché proveniente da un grande maestro del cinema, un discorso articolato in modo cinematografico sui limiti della visione è chiaro che non può non suonare almeno in parte come un autocritico, forse come una sorta di critica trascendentale, per usare un termine kantiano, sulle condizioni di possibilità della visione stessa è questo piano sequenza, cioè noi vediamo la scena finale famosissima, noi partiamo da un'inquadratura dell'interno di questa stanza d'alberghetto dove Jack Nicholson è disteso sul letto, quindi vediamo le sue gambe nella parte inferiore dell'inquadratura, è disteso sul letto, poi piano piano la macchina la presa avanza, c'è questa finestra a sbarre che sembra volutamente dall'idea di una prigione, la prigione della vita, la prigione del nostro corpo, la prigione del nostro passato, ciò che ci lega alla vita e da cui non possiamo fuggire, che è esattamente quello che Jack Nicholson sta cercando di fare, poi la macchina da presa avanza, letteralmente passa attraverso queste sbarre di questa finestra e va fuori, verso il piazzale su cui dà la stanza in cui alloggia Jack Nicholson. Nel frattempo succedono delle cose in questo piazzale, cioè passa della gente, Maria Schneider è uscita, ha detto vabbè vado fuori e quindi sta passeggiando lì, arriva una macchina a un certo punto e noi la vediamo entrare nell'inquadratura, scende una persona e va verso l'entrata dell'alberghetto, perché qua c'è la stanza, la finestra e noi sappiamo che un po' più sulla destra dell'inquadratura fuori campo c'è l'entrata dell'albergo, quindi la gente deve entrare da lì se vuole entrare. E dopo un po' esce l'autista che ha accompagnato questa persona e noi vediamo che va verso Maria Schneider e capiamo che sta cercando di distoglierla, cioè di portarla lontano dalla finestra e capiamo che Jack Nicholson è in pericolo. A un certo punto parte una musichetta di sottofondo, che dopo un po' fa registrare una sorta di tonfo, di colpo secco, poi è chiaro queste cose le sai a posteriori perché a meno che uno non vada al cinema rischia di perdersela questa cosa mentre lo guarda il film per la prima volta, magari su PC eccetera. Quindi un tonfo secco, poi la macchina da aprire continua a girare nel piazzale, si muove un altro po', inquadra altre cose, poi torna da fuori però stavolta, quindi non torna dentro, ma torna da fuori, si gira verso la finestra e ci inquadra il corpo, senza mostrarci il volto, ma il corpo di Jack Nicholson e la gente che, compresa la Schneider e la sua ex moglie di Nicholson, di David Locke meglio, Rachel che era arrivata fin lì per cercarlo, che lo trovano e registrano, cioè prendono lato della sua morte. Quindi noi capiamo che quel tonfo secco poteva, ma forse anche no, il regista non ce lo dice, essere lo sparo. Quindi l'idea è, e su questo la critica più abbeduta, anche con un linguaggio che si presta, se vogliamo, alla letteratura. C'è il cinema che diventa una sorta di testimone silenzioso e involontario degli accadimenti, in questo caso un omicidio, perché in realtà lo registra ma non lo inquadra, cioè l'omicidio avviene fuori campo, quella è la cosa importante di questo film, cioè come dire, la macchina da presa, il cinema c'è, però sia a livello acustico, magari un tonfo che si perde in una musichetta di sottofondo, in mezzo alle grida di questo, di quest'altro, delle chiacchiere delle persone, eccetera, eccetera, e comunque è qualche cosa che sta al di fuori dello sguardo della cinepresa, che letteralmente si consuma fuori campo e che la macchina da presa in modo inerte, passivo e comunque ininfluente registra. E questo per quanto riguarda i limiti della visione, però questo discorso qua può essere girato da un'altra prospettiva, possiamo girare la frittata e dire sì, questo è vero, la visione, quindi il cinema ha dei limiti, quindi la fine del sogno diciamo neorealista del cinema precedente, come in contatto diretto con la realtà, in presa diretta. Qua ovviamente nel frattempo è arrivata la nouvelle vague, cioè l'idea dell'ambiguità, della problematicità, dei rapporti appunto, l'abbiamo accennato prima, tra parole e immagine che non sono di un'integrazione felice, ma di una sfasatura e così via, però dall'altra parte non si può non registrare anche un'altra cosa, cioè il fatto che nel momento in cui parte questa sequenza famosa, il piano sequenza, lunghissimo, anche coraggioso, perché allora oggi siamo abituati più o meno a tutto, a rompere i codici in continuazione, in ogni ambito dell'arte, anche quella cinematografica, ma allora era, insomma negli anni 70 ci voleva del coraggio e tra l'altro il 74 è lo stesso anno in cui Tarkovsky gira lo specchio, che è un altro film iper sperimentale. Appunto questa macchina da presa parte da un interno, cioè poi si avvicina alla finestra con queste sbarre, come una prigione e ci passa letteralmente attraverso, cioè che è esattamente quello che noi non possiamo fare, come se fosse immateriale la macchina da presa, mentre invece ha un supporto fisico tangibile, quindi non può passare attraverso delle sbarre così. E quindi c'è quest'idea che è vero i limiti del cinema, però allo stesso tempo poi lo sguardo cinematografico, lo sguardo in generale è libero, è quello che noi non siamo, perché va dove vuole, cioè esce, è l'unico che rompe il confine tra interno ed esterno, quindi che può uscire dalla stanza senza soluzione di continuità, poi si aggira, poi torna verso la finestra da fuori e così via. Quindi insieme una critica dei limiti della visione del cinema e della macchina da presa, allo stesso tempo un elogio però dello sguardo, che ci può restituire allo stesso tempo, sebbene modulato, delle dimensioni della realtà che magari con una certa attenzione non possiamo penetrare e che non potremmo fare altrimenti. In questa scena abbiamo parlato perché ci siamo soffermati sulla questione di questa macchina da presa che va oltre la finestra, una finestra non a caso con delle sbarre, perché tutto il film Professione Reporter in realtà non è altro che una riflessione condotta con gli strumenti del cinema per dimostrare che in realtà noi esseri umani viviamo dentro delle gabbie, cioè siamo prigionieri, ognuno a modo suo e da questa prigione non possiamo uscire. Non è un caso che in questo film spesso gli uomini, ma non solo gli uomini, anche gli animali, vengano inquadrati dentro fisicamente delle gabbie. C'è una scena in cui l'amante di Jack Nicholson è la seconda parte, quindi non più il David Locke che è diventato David Roberson e gioca a fare il trafficante di armi, in cui lei rompe con lui e dice basta sono stufo di te e me ne vado. Lui la segue, nel frattempo lei è fatta dare un passaggio da uno che l'ha tirata su e l'ha messa dentro il suo furgone, quindi noi la troviamo, Jack Nicholson si fa aprire il portellone che è una specie di ape un po' più grandicello e lei di fatto era annicchiata come se fosse un animale in gabbie. Oppure in un'altra scena quando Jack Nicholson sta scappando dal suo ex collega che lui non vuole vedere più, quello che lavorava con lui alla tv a Londra, perché era una parte di quella vecchia vita di cui lui si voleva liberare. In occasione di questa fuga dall'hotel lui si accorge che a qualche decina di metri c'è lui, c'è questo suo ex collega che sta leggendo il giornale, allora accelera il passo e scappa e passa, guarda caso, vicino a un mercatino degli animali, quindi noi vediamo nella parte estera l'inquadratura mentre Nicholson nella sinistra scappa, attraversa la strada e poi si defila, vediamo degli animali in gabbia, quindi c'è costantemente, siccome queste cose non sono mai casuali nel cinema dei maestri, c'è l'idea, viene continuamente suggerita l'idea che qualunque cosa noi facciamo in realtà siamo sempre ingabbiati o comunque abbiamo dei legami che non possiamo recidere e tutto il film va nella direzione appunto di un tentativo destinato a fallire da subito, di un'emancipazione che nella realtà non può esserci, perché se non altro, perché i nostri legami in qualche modo ci condizionano, ci accompagnano sempre, che siano legami diciamo di sangue, perché ognuno di noi non è stato creato dal nulla, ma insomma tutti noi abbiamo o abbiamo avuto i genitori, oppure dei legami che ci siamo creati, al di là di quelli di sangue, amicizie, amori eccetera eccetera, e questi ci inseguono esattamente come la moglie di Jack Nicholson, Rachel, non accetta di, quando gli dicono ma è morto, insomma è morto così, infarto, e lei vuole capire, vuole incontrare questo Roberson che in realtà non sa che è Jack Nicholson, che ha assunto l'identità e vuole parlare con lui per capire insomma, e quindi c'è quest'idea che non possiamo liberare, oppure il passato, la memoria è ciò che qualifica l'umanità, e quindi se noi abbiamo memoria abbiamo un passato, come si fa a liberarsi di questo passato? Non si può, e infatti questo viene fuori nel corso di un dialogo tra Nicholson e David Locke, quando è ancora Locke e David Roberson, a un certo punto Jack Nicholson, giornalista, dice al trafficante d'armi, nel corso di questa chiacchierata in cui si sono conosciuti un po', prima che quell'altro avesse l'infarto, ma che bello sarebbe se potessimo ricominciare da capo ogni giorno, senza ricordare quello che è successo il giorno prima, insomma tutto il tempo prima, se potessimo ogni giorno ricominciare da capo senza memoria, e quell'altro gli dice sì, però il mondo non funziona mica così, e Jack Nicholson subito gli ribate, sì, ma non funziona neanche nell'altro modo. Quindi in un certo senso il film è l'illustrazione di una sorta di rimodulazione narrativa del vicolo cieco, cioè comunque vada nella contemporaneità le cose in qualche modo non funzionano, quindi questo tentativo di essere liberi, in realtà è destinato a naufragare, e sono numerose le immagini e le situazioni che rimandano a questo. Quella che probabilmente ha fatto più epoca, che non è neanche un appunto, non è una sequenza, è proprio un'immagine, che si ha nella scena, la famosa scena della funivia, che è una scena che sul piano narrativo è del tutto pleonastica, cioè non serve a niente, non è qualcosa che fa andare avanti la storia, però è importantissima e funzionale sul piano tematico, perché? Perché Jack Nichols a un certo punto sale su una funivia e chiede al tizio della funivia se può sporgersi fuori, cosa che lui fa, e quindi a un certo punto lui si sporge, c'è questa meravigliosa inquadratura di Antonioni che lo inquadra da dietro, dall'alto da dietro, è lui che si sporge fuori dalla funivia e fa, mima il volo di un uccello, mette le braccia come se stesse volando, come se stesse librando in volo, è tanto più emblematica questa immagine perché in realtà lo vediamo solo dal busto, quindi non vediamo neanche la funivia, ce ne inquadra proprio solo quello che sporge, per cui sotto vediamo il mare, è lui che fa così. Solo che qual è il punto? Che questa immagine di pochi secondi in realtà poi ci riporta subito la realtà, perché poi si sa che l'uomo non è un uccello e quindi la funivia, certo che idealmente, illusoriamente è sospesa nel vuoto, ma in realtà è attaccata a un cavo bello solido fra l'altro. Quindi questa è la prima, c'è l'idea che comunque tu puoi giocare, però o finisci come Icaro o riesci a volare solo se sei folle, quindi come dire la tua coscienza in qualche modo si è volatilizzata a proposito di uccelli, oppure questo sogno può durare per un po', ma dopo ti tocca rientrare rincarreggiata e ti tocca riammettere i legami, quindi le catene, diciamo in un'ottica pessimistica, perché Antonioni non era certo un ottimista, le catene che ti tengono attaccato alla vita. E su questo stesso piano c'è un'altra immagine potente che ha a che fare con il motore del film, il motore narrativo, quando Maria Schneider, bellissima tra l'altro in questo film, giovane, che veniva fuori due anni prima da ultimo tango a Parigi, insomma questo viso da ragazzina, ma in realtà di donna volitiva, perché poi le donne del cinema di Antonioni sono più forti, più sensibili, più decise, anche con le idee molto più chiare degli uomini, e anche il professionale reporter non fa eccezione, sono su una decapotabile, stanno uscendo, si stanno allontanando da Barcellona, quindi dal contesto urbano. Tra l'altro Antonioni ha cura di inquadrarceli su una decapotabile con la capota aperta, su questa strada diritta e con dei viali alberati, quindi c'è il tema anche qui illusorio, ti allontani dalla grande città e quindi in teoria dalla civiltà, ma in realtà non è così, perché? Intanto perché sono su una decapotabile, quindi una macchina, veicolo di civiltà, tecnologia, eccetera, ma poi anche quella natura di cui sono circondati, perché vi ha l'alberato bellissimo, è una natura in realtà già culturalizzata, perché c'è un nastro d'asfalto, questa strada, e poi alberi piantati con una certa regolarità, ognuno simmetrico, uno di fronte all'altro e così via, quindi in realtà il sottotesto è che non ci si allontana ormai più dalla civiltà, a parte quando si va in Africa, allora però non si capisce i locali, dopo vediamo in che senso Jack Nicholson non capisce una mazza quando si confronta con l'altro, come del resto tutti noi, gli occidentali perlomeno, e appunto Maria Schneider chiede a formula a Jack Nicholson la domanda fatidica, ma da cosa stai fuggendo? E lui non risponde subito, gliela darà dopo la risposta, lui le dice semplicemente, teniamo presente che Maria Schneider è seduta sul sedile dietro di questa decapottabile, e dice guardati indietro, lei lo fa e si rimette nella stessa posizione di, tipo, volo d'uccello di lui quando era sulla funivia, solo che qui Antonioni ha l'accortezza di lavorare in un modo, come dire, divergente sull'espressione dei personaggi, cioè quando Jack Nicholson era sulla funivia e giocava a fare l'uccello in volo, la sua era pura estasi, invece qui abbiamo, Antonioni ci inquadra la Schneider da dietro, quindi da dentro la macchina, e poi ce la inquadra davanti, di fronte, dal basso, nella stessa posizione prima assunta da Nicholson, solo che all'inizio sorride, e poi il suo sorriso sfuma ed acquisisce un'espressione seria, ma non come se avesse visto qualcosa che la spaventa, ma come per una sorta di consunzione, perché dura un po' questa inquadratura, e questo non può non suggerire, specie tenendo conto appunto del ruolo della donna nel cinema di Antonioni, non può non suggerire una, come se, come dire, se questo fosse imputabile a una sorta di saggezza, magari, appunto, considerato il fatto che Antonioni è molto sensibile alla figura femminile nella contemporaneità, magari imputabile a un genere, cioè come se ci fosse una sorta di saggezza, in questo caso femminile, o comunque legata al personale della Schneider, che un'estasi comunque non può durare, no? E quindi a un certo momento il sorriso si spegne, e quindi, come dire, una consapevolezza che anche questa ricerca della libertà, così come del resto questa fuga, che verrà appunto arrestata da una morte non naturale, come tutto, anche quest'illusione di libertà è destinata a finire presto, così come presto il sorriso della Schneider, che si libra come un uccello e roba questa macchina, presto si spegne. Quindi l'idea che non si può fuggire dal proprio passato, dai propri legami, non si può fuggire da se stessi, questo è, perché in qualche modo, come lo chiama Jack Nicholson, il nostro vecchio sé e non ci molla mai, no? A un certo momento Maria Schneider dice a lui, no, meglio, lui chiede a lei, ma che cazzo ci fai con me? Questa è una domanda che lui formula spesso a lei. E lei dice, quale te stesso? E lui dice, ma il vecchio è il vecchio me, è l'unico che conosco, e in effetti è così, cioè non possiamo liberarci da questo, no? Così come, e questo ci viene lasciato intendere a Antonioni, culturalmente non ci possiamo affrancare da tutto ciò che ha costituito, no? Sul piano storico, sul piano sociale, culturale, in senso antropologico, il nostro sguardo. E anche qui c'è una scena importantissima nel film, che è quasi un episodio, però assume una valenza strutturale. Quando lui va a fare queste indagini in Africa, a un certo punto intervista un uomo, un africano, seduto sotto un albero, tranquillo, pacifico, che si faria con un ventaglio. Gli punta la macchina da presa in primo piano e comincia a intervistarlo, gli fa delle domande. E gli chiede, ma scusi, lei adesso ha fatto, sta facendo questo percorso per diventare uno stregone locale, no? Però io so che lei ha vissuto degli anni in Europa, anche se africano. E considerato questo, chiede Jack Nicholson, ancora giornalista David Locke, a quest'uomo, considerato questo, non è arrivato a vedere questo sapere africano, no? Che in cui adesso ha rimerso le mani per diventare stregone come della pura superstizione, no? Visto che è stato in Europa. E quest'uomo gli dà una risposta molto saggia, no? Che fa luce, insomma, no? Su un tema del film e anche sul personaggio di Nicholson. E che non fa una piega, cioè gli dice, caro David Locke, queste tue domande in realtà dicono molto più di te, di quanto le mie risposte potrebbero rendere conto di me stesso, no? Perché in realtà tu hai già deciso cosa vuoi sentirti dire, no? Cioè, tu hai delle aspettative per cui qualunque cosa io dica, tu comunque non la capiresti. Perché hai già deciso che la risposta sensata a questa domanda sarebbe, non lo dice, ma insomma viene lasciato intendere, sarebbe sì. Cioè, adesso le vedo come una superstizione. Se invece dico no, allora tu mi hai già giudicato, no? Quindi c'è tutto questo tema che in Antonioni non viene messo, non è politico, cioè non viene messo in relazione al senso di colpa dell'uomo occidentale che ha ammazzato, fatto disastri in Africa o altrove, no? Ma è proprio una questione conoscitiva, cioè epistemologica, di sguardo, cioè che cosa vede l'uomo occidentale e l'uomo in genere quando guarda qualcosa o qualcuno, nella fattispecie un africano. Perché diciamo questo? Perché questa scena si conclude, questa sequenza, con questo monò, questa risposta diciamo di questo uomo africano che dopo aver detto questo dice, adesso lei mi rifaccia queste stesse domande, dice a Jack Nicholson, però me le faccia così e prende la macchina da presa, la gira di 180 gradi e gliela punta in faccia a Jack Nicholson, come dire, adesso sono io che guardo te e quindi rifammi le stesse domande, ma adesso sarai tu quello che sarà l'oggetto e non più il soggetto dello sguardo, in questo ribaltamento ideale di potere, perché è chiaro che i rapporti sociali tra l'occidentale e l'africano sono ancora di soggetto oggetto, cioè di un soggetto che rende obiettum, cioè distante oggettivizza, quindi in qualche modo reifica questo altro che è l'africano. Poi inutile dire che Antonioni taglia la sequenza e per cui noi non veniamo a sapere come finirà questa intervista e del resto è perfettamente coerente, perché ha senso, perché ogni vita è monca e non è che ogni sequenza, così come le nostre vite, finiscono quando vogliono loro, non quando vogliamo noi. Questo accorgimento Antonioni lo usa molto spesso in questo film, cioè quando tu ti aspetti una rivelazione che getti un po' di luce e ti aiuti a penetrare una cosa, lui taglia, ti dà proprio questa sensazione che, ripetiamo, è molto coerente con la vita, c'è una poesia di Primo Levi che dice che ogni vita è monca, così come il trafficante muore di infarto, Jack Nicholson muore ammazzato e così via. C'è poi, diciamo, poi i temi sono moltissimi, dicevamo prima la questione delle radici dell'identità, anche l'inquadratura sulle donne e i bambini dell'inizio, perché ovviamente dire identità, chiedere chi sei, che è una domanda che risuona più volte nel corso del film e che forse in letteratura Shakespeare meglio di qualsiasi altro ha formulato e articolato e che è ben presente nel cinema di Antonioni, non può non rimandare a ciò che ci costituisce, alla trama del nostro stesso essere e quindi a scontrarsi con elementi che poi sconfinano nel mistero. C'è una piccola scelta di regia che rischia di passare magari un po' inosservata nel corso del film, su cui però vale la pena di insistere, che è l'unico momento in cui insieme al piano sequenza, diciamo, però nel caso del piano sequenza era un discorso più razionale, qui è proprio come se Antonioni si facesse da parte. C'è un momento, quello in cui Jekyll Nicholson trova il cadavere di Robertson in camera, in cui noi lo vediamo pensieroso, vediamo che sta rimuginando, sta cogitando, capiamo che comincia a farsi strada qualcosa nella sua coscienza, nella sua testa, dopodiché lui va vicino alla sedia su cui Robertson aveva appoggiato prima di buttarsi a letto e prima di avere l'infarto, la sua camicia blu, che era la stessa che avevamo visto nel flashback quando loro due parlavano, quindi sappiamo, quando vediamo quella camicia blu, la associamo a Robertson, perché l'abbiamo visto vestito così in quel flashback di prima, e la prende, cioè la prende in mano, poi la macchina da presa piano piano si sposta verso un ventilatore a soffitto che sta girando, quindi con il suo ronzio monotono, anche nell'eclisse, c'è questa cosa di un rumore di fondo, poi piano piano si riabbassa, ma che cacchio fa Antonioni, poi piano piano si riabbassa e noi adesso troviamo Jekyll Nicholson con la camicia di Robertson addosso, cioè come dire, nel momento in cui si sta compiendo anche perlomeno fisicamente questa mutazione, io mi faccio da parte, perché, questa è una delle possibili risposte, quanto sia plausibile o meno, lo decide lo spettatore, una delle risposte potrebbe essere perché nel momento in cui avviene qualcosa nell'interiorità, cioè come dire, l'interiorità rimane sempre preclusa allo sguardo, il cinema, il visibile non può entrare nell'interiorità, quindi questa mutazione qua, anche se a livello solo esteriore, però rimanda a un tentativo di metamorfosi interiore, perché Jekyll Nicholson vuole sul serio assumere l'identità, non solo il nome, cioè attraverso il nome anche tutto il resto, il mestiere, tutto ciò che potrebbe, in questo afflato illusore, in questa chimera, tutto ciò che potrebbe cambiarlo dentro, ecco, su questo il cinema è come se ci stesse dicendo Antonioni, non ha niente da dirci, perché il cinema può solo mostrare quello che affiora in superficie, tutto il resto no, quindi in questo momento qua, che potrebbe essere, se vogliamo, quello del tentennamento, magari nel momento in cui non lo vediamo, Jekyll Nicholson esita a mettersi la camicia, oppure ci pensa un attimo di più, ecco, in questo momento, nello spazio della decisione, nel momento del tentennamento, eccetera, eccetera, la cinepresa sta inquadrando altro, quindi un po' come nel piano sequenza, c'è qualcosa che gli sfugge, che le sfugge e che sempre le sfuggirà, e quindi qui è un piccolo tocco di regia, ma in cui Antonioni ci rivela tutta la sua grandezza, no, cioè come dire sfiorare il mistero in modo molto pudico, il mistero di una metamorfosi mancata, però l'idea che comunque, di nuovo, la visione è limitata, qual è il modo per rendere l'unico modo possibile in un film, inquadrare qualcos'altro, e quindi un ritrarsi, no, cioè sapere, anche questo è un indice, insomma, testimone di quanto era un maestro Antonioni, sapere quando si tratta di ritrarsi, di fare un passo indietro, così come nell'unico momento in cui viene filmata una morte in diretta, documentaristica, cioè di una fucilazione di un africano, Antonioni fa in modo di avvicinarsi al primo piano di quest'uomo a cui hanno appena sparato, ma ce lo mostra tutto sgranato, quindi di fatto noi non riusciamo a, è troppo sfocato, non riusciamo a mettere a fuoco l'immagine, quindi c'è anche quest'idea di la morte, per definizione è oscena, nel senso che sta e deve stare fuori scena, perché è un mistero, su cui non si può fare guaiarismo, in tempi in cui si fa spettacolo di qualunque cosa, è chiaro che un tipo di sguardo del genere risulta così, del tutto inattuale. Dicevamo prima della questione che abbiamo più volte accennato, dell'identità delle radici, anche qui c'è una scena importante, quando Jack Nicholson va in un parco a Barcellona per incontrare uno dei contatti, perché il suo vecchio il vecchio Robertson, che lui ha sostituito, aveva dei contatti doveva incontrarli, solo che questo fantomatico contatto non si fa vedere. C'è un signore, un vecchio, che si aggira in questo parco e lui lo ferma, e gli dice ma scusi non è che ha visto qualcuno, perché dovevo incontrare uno e questo non è venuto. E questo signore qua, questo vecchio, si lancia in un pippone apparentemente sconclusionato e impertinente, fuori luogo, che sembra non avere alcun senso, mentre in realtà ce l'ha perfettamente, è funzionale al tema, cioè ci sono dei bambini in lontananza che giocano in questo parco e lui li guarda, accennando a loro e parlando con Jack Nicholson, gli dice guardi quei bambini là, tutti guardano i bambini, bambini tra l'altro che c'erano nella prima inquadratura del film, quindi le due cose entrano in relazione, bambini e vede il futuro, io invece vedo la solita vecchia tragedia, perché non riescono a staccarsi da noi, noi adulti o noi vecchi, che noia dice, quindi c'è quest'idea anche dell'impossibilità di creare una discontinuità non solo rispetto a se stessi, il sogno impossibile di Jack Nicholson che vuole avere una seconda vita che non potrà avere, perché è troppo legato ex moglie, ex collegio, pedinano, il suo passato eccetera, quindi di fatto rimane sospeso, non cambia nulla, rimane in un limbo finché non lo ammazzano e dall'altra parte l'impossibilità di una reale discontinuità anche tra le generazioni, perché appunto come dice questo vecchio, i bambini, cioè le nuove generazioni non si staccano da chi viene prima, quindi ogni nuova generazione in quest'ottica molto tragica, pessimista, insomma comunque sicuramente non particolarmente, come la possiamo definire, non particolarmente speranzosa, diciamo così, oggi è una cosa che va abbastanza di moda o che comunque si tira fuori spesso di dire ma io credo nelle nuove generazioni, ecco, Antonioni tematizzando attraverso la figura di questo vecchio non ci credeva molto, insomma, l'idea che comunque in forme diverse una stessa tragedia, una stessa impossibilità di creare una rottura nella storia collettiva, cioè nella storia con la S maiuscola o nella storia individuale, cioè all'interno di una biografia, ecco, questa discontinuità nei fatti sia impossibile, cioè non possa essere reale, non possa essere nei fatti. Cosa rimane? Perché, insomma, si potrebbe parlare ancora del ruolo della donna e tante altre cose, ma insomma, poi Antonioni è veramente un continente. Ma cos'è il tatto di fondo che rimane in realtà alla fine di questo film? Cioè quello che è, o forse il cuore profondo, no? Dicevamo, un film sulla crisi, tutti i personaggi di Antonioni sono in crisi sin dall'inizio e Jack Nicholson, questo inizio in media sarebbe proprio per significare questo, cioè non per dare un'idea, come dire, comincio che sono già dentro, che sono già in Africa, non tanto perché noi entriamo nella vita, che il mondo è già fatto, sì certo anche queste, ma sono considerazioni un po' evanescenti, un po' generiche, no, comincia così perché Jack Nicholson è già in crisi all'inizio di questo film, cioè non è che va in Africa e gli arriva la crisi, cioè va in Africa che è già in crisi, un po' come noi occidentali, insomma, stiamo già male, un po' tutti, anche se, insomma, anche se facciamo finta di no, ma l'idea è che comunque la civiltà occidentale sia già in crisi, che Jack Nicholson va in Africa ed è già in crisi e poi questa crisi se la porta dietro, non solo in Africa, ma anche quando decide di assumere la nuova identità, perché di fatto rimarrà in crisi fino alla fine. E quindi per risalire alla radice del problema, diciamo, che cos'è che cerca Jack Nicholson e che cos'è, che cosa c'è al fondo di questa crisi, no? Perché questa crisi con questo personaggio così particolare potrebbe anche far incazzare, diciamo, lo spettatore, questa è la parte inattuale, perché uno dice, ma come, sei un giornalista affermato, scopi di salute, hai una famiglia normale, non hai grossi problemi, come fa a essere in crisi, no? E questa è una questione legata alla borghesia degli anni settanta, in cui la realizzazione personale era tutto sommato abbastanza facile, in questo senso, o comunque alla portata, no? Magari non ai livelli di questo giornalista affermato, anche in campo internazionale, no? Il trafficante d'armi, quando lo conosce, dice, ma lei è David Locke, ho letto i suoi articoli, quindi questo è anche famoso, però diciamo comunque c'è un'atmosfera anni settanta ancora abbastanza fiduciosa nei confronti del futuro, in questo Antonioni è stato un grande sismografo, ma c'è la parte attuale, cioè quella del fatto che il personaggio di Jack Nicholson in realtà oggi è l'incarnazione della classe media, cioè dell'uomo medio, diciamo così, occidentale ed europeo nella fattispecie, cioè di un uomo a cui tutto ciò che viene attribuito esteriormente come segno di benessere, di realizzazione, di agio in qualche modo, in realtà non gli serve a niente, così come non gli serve a niente è per star bene, cioè non lo fa star bene, così come non lo fa star bene appunto il suo spirito d'osservazione e il suo distacco, queste cose non gli servono ed è molto significativo che per il personaggio di Jack Nicholson vengano adottati questi due criteri, che sono due criteri professionali, perché questo vale anche per oggi, in questo senso il film è attualissimo in quasi tutto in realtà, perché allora come oggi il lavoro è ciò che viene usato, come dire, è ciò a cui ci si rifà per definire un essere umano, ecco, Jack Nicholson che pure agli occhi del mondo è affermato, dovrebbe essere felice, ecco, le cose che lo definiscono criteri non esistenziali ma professionali, in realtà ai fini dell'esistenza non gli servono una beata mazza. E quindi che cos'è che rimane al fondo dopo la visione di questo film? E questo probabilmente, almeno ai nostri occhi, a noi spettatori oggi del 2022, quello che ci colpisce, anche se arbitrario ovviamente, o a che pare con la sensibilità, ma insomma una delle cose che sicuramente non è costellativa, non è ai margini, ci viene da uno scambio che l'ex moglie Rachel di David Locke, cioè di Jack Nicholson, un giornalista, lo scambio che Rachel ha con il collega della TV che poi cercherà di mettersi in contatto con quello che pensa sia Robertson, che invece è Jack Nicholson che scappa via da lui. E gli chiede questo ex collega Rachel, ex moglie di Nicholson, ma lui ti amava? E lei risponde sì, però non riuscivamo ad essere felici. Ecco, questo accento in questo contesto, in questo mondo ambiente culturale, in quest'epoca della contemporaneità, è come se ci ricordasse che poi al cuore della faccenda, andando a scavare in fondo, grattando più che si può arrivando al nocciolo della questione, quello che resta, che davvero è inestirpabile, è una sorta di inadeguatezza, al di là della posizione sociale, al di là delle aspirazioni, al di là del mestiere che uno fa, al di là delle differenze sessuali, anche se in realtà appunto Jack Nicholson è un personaggio molto più meschino per certi versi, per esempio del personaggio di Monica Vitti nell'Eclisse, che come Nicholson è in crisi e sa quello che non vuole, non sa quello che vuole, però è molto più umana, mentre Nicholson è anche ormai freddo di fronte alla morte, di fronte a tutto, trova il cadavere di Robertson e reagisce come un robot, è come se niente lo toccasse più, quindi al di là delle differenze anche di genere, comunque in questo caso appunto permane questo dato di fondo, cioè questa inadeguatezza dell'uomo contemporaneo di fronte alla vita, nonostante, forse anzi meglio, proprio in virtù degli agi e delle cose di cui si è circondato, è che è l'altra faccia di quella cronica infelicità che di fatto costituisce il filo rosso di questa epoca e un po' anche al di là, ripetiamo, delle differenze anche delle nostre vite.